Reality and fantasy The sound is so small and not so dark The world between reality and fantasy Chi l'avrebbe mai detto, o meglio forse in tanti lo avevano già pronosticato. Certo è che in pochi mesi, dopo il trionfo a Sanremo, Giovani, Raffa e il Gualazzi, di strada ne ha fatta molta. Un album, reality and fantasy, ora in special edition, un tour estivo in Italia con 40 date e oltre 35.000 spettatori e in Europa, con tappe a Berlino, Hamburgo, Parigi, Francoforte, un nuovo tour nei teatri che domenica farà tappa anche a Brescia, al Teatro Grande. Riproporremo una selezione di brani del mio album reality and fantasy, alcuni brani appartenenti alla tradizione afroamericana, compresi tra gli anni 30 e gli anni 80 del secolo scorso. Una strada spianata per questo giovane artista che ama il jazz, canta in italiano e in inglese, premiato di recente con l'Eurostar Award 2011, indetto da Oiko Times, esclusivamente per i partecipanti all'Eurovision Song Contest. Grazie alla partecipazione all'Eurovision Song Contest e alla visibilità, l'opportunità diciamo che abbiamo avuto è quella di suonare in diversi posti, come ad esempio diversi festival francesi, diversi festival jazz in Germania, ma non solo, una vera e propria tournée in Germania, Svizzera, Belgio e Austria. Band straordinaria per il concerto al grande, con Gualazzi, Cristian Marini alla batteria, Alex Gorbi al contrabbasso, Luigi Faggio alla tromba, al sax Max Valentini, Enrico Benvenuti al sax tenore e Giuseppe Conte alla chitarra.